L'andamento della popolazione Umbra nell'età moderna al centro di un'interessante opera realizzata da Odoardo Bussini, già professore ordinario di demografia presso l'Università degli Studi di Perugia. Venerdì 12 aprile, nel magnifico scenario di Palazzo Sorbello, Bussini ha presentato la sua ultima opera, La popolazione dell'Umbria, nei secoli XVII-XIX, un appuntamento al quale non hanno voluto mancare diversi esponenti del mondo accademico, divenendo un'occasione importante per celebrare la demografia perugina e per rendere omaggio al lavoro e alla professionalità di Bussini, per anni pilastro del Dipartimento di Statistica della Facoltà di Scienze Politiche. Fino all'Unità d'Italia ovviamente non c'erano fonti ufficiali per effettuare un'analisi demografica e quindi le fonti ecclesiastiche, cioè i libri parrocchiali dei nati, dei morti e dei matrimoni, insieme agli stati delle anime, che erano una specie di censimenti premoderni, offrivano tutte le informazioni demografiche per poter effettuare poi una rilevazione, un'analisi. Avevamo presso l'allora Istituto di Statistica dell'Università una serie di fonti appunto conservate e una serie di dati e io negli anni 90 ho messo mano a questa enorme fonte per poter andare avanti. Poi ovviamente per l'intero territorio regionale non era possibile avere tutti i dati e quindi ci siamo concentrati soprattutto sul territorio dei agli ocisi di Perugia, che però ovviamente era molto ampio, era poco meno del 40% dell'intero territorio provinciale e lì attraverso un'indagine campionale siamo riusciti a mettere, diciamo, a analizzare tutta l'evoluzione dal 700 fino all'Unità d'Italia. Invece successivamente da quando ci sono le fonti ufficiali, quindi i censimenti e la rilevazione del movimento naturale c'è stata la possibilità quindi di arrivare ante. Ci siamo fermati, mi sono fermato alla fine dell'Ottocento perché successivamente poi c'è una letteratura che illustra l'evoluzione successiva fino ai nostri giorni, ma ecco ripeto per il periodo preunitario non c'era assolutamente niente, quindi abbiamo fornito insomma dei dati che a disposizione di chi vuole approfondire ulteriormente il problema. In termini generali per l'intero territorio regionale già le stime del Belloc, uno studioso di popolazione che aveva fatto stime per tutti gli ex stati unitari in Italia, dava un ammontare di popolazione all'incirca di 300.000 abitanti a fine 500. Poi cosa è successo? Nei due secoli successivi 600 e 700 si è avuta in pratica una stazionarietà, una crescita molto molto lenta, tanto che all'inizio dell'Ottocento, secondo il primo censimento pontificio del 1817 c'erano 344.000. E poi la crescita è avvenuta dopo il 1820 e al primo censimento del 1861 eravamo arrivati a oltre 400 e poi soprattutto l'impennata forte è avvenuta dagli anni Ottanta del 1800 fino al 1920-21, che è il censimento, perché ad una mortalità che si è ridotta progressivamente si accompagnava una stazionarietà della natalità e quindi questo in presenza pur di una perdita emigratoria, perché dall'Umbria sono partiti tra fine dell'Ottocento e la prima guerra mondiale moltissime migliaia di persone, si è avuta una fortissima crescita. Ecco, quindi questa è la sintesi in pillole. La presentazione del libro di Bussini è stata aperta con i saluti del presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello, Ruggero Ranieri, e del professor Ambrogio Sant'Ambrogio, direttore del Dipartimento di Scienze Politiche. A coordinare il pomeriggio è stato invece il professor Mario Tosti dell'Università degli Studi di Perugia. Oltre all'autore è intervenuto anche Lorenzo del Panta, già professore di demografia presso l'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna. Fondazione Ranieri di Sorbello